Tra i lavoratori c'è smarrimento, perché questa secondo me è la cosa più emblematica. Ormai oggi si pensa che queste operazioni economico, finanziarie o industriali le si possano fare tralasciando quello invece che è l'oggetto secondo me più importante, che è il soggetto lavoratore. Paragonandolo quasi a un mero barattolo di pomodori e a seconda dell'occasione cambia colore della scatoletta o addirittura cambia posizionamento nello scaffale. I lavoratori dell'ABB sono scesi strada per chiedere chiarezza e garanzie occupazionali dopo che la multinazionale svizzera ha venduto al gruppo italiano FIMER SPA il settore dell'inverter solare, una cessione che di fatto dividerà in due lo stabilimento di Terra Nuova Bracciolini, con una parte venduta e l'altra invece mantenuta, quella relativa alla produzione di carica batterie per la mobilità sostenibile, settore considerato strategico. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno perché innanzitutto si è esclusa tutta la discussione sindacale. Capisco che essendo una società quotata in borsa ci siano come dei vincoli, però è la prima volta che ci troviamo di fronte a un comportamento di questa natura, visto che in quell'azienda c'era anche un sistema di relazioni sindacali abbastanza strutturato ed avanzato. Ma soprattutto siamo di fronte per la prima volta a una divisione dello stabilimento di Valdarno, che per noi è sempre stato strategico nella sua interezza. Adesso la preoccupazione per il futuro dello stabilimento è per la tenuta occupazionale. Attualmente sono 550 i dipendenti, quasi 400 invece i lavoratori dell'indotto. FIMER avrà i suoi dipendenti e anche lì si aprirà una discussione difficile e sconcertante perché per la complessità del processo produttivo secondo me è difficilissimo identificare quali saranno i lavoratori che andranno sul ramo del solare perché la particolarità del processo produttivo, che poi è sempre stata anche la nostra forza nei momenti di crisi più importanti, era che lo stabilimento era uno stabilimento unico. Quindi c'era una duttilità, cioè una professionalità, una polifunzionalità che era della massima forza e la strategia più importante nel mantenimento dell'economia dello stabilimento. Dopo lo sciopero prosegue lo stato di agitazione. Prossimo passo sarà il tavolo alla Regione Toscana, convocato per il prossimo lunedì. Probabilmente successivamente ci sarà una richiesta di incontro congiunto. Prenderemo in considerazione di fare nuove iniziative laddove si cominciano a intravedere già ostacoli magari dall'apertura di un tavolo congiunto istituzioni e tutte le aziende interessate.